E' nato spontaneamente su internet, in pochi giorni denunce come questa sono diventate oltre 15.000 in tutta Italia, citano il governo per istigazione al suicidio, reato previsto dal codice penale, un comitato di cittadini che non ce la fa ad andare avanti, sopraffatti come si sentono da una crisi economica senza precedenti. In tutto 5 i promotori, in Puglia e a Trani, Lino Ricchiuti in passato ha avuto il coraggio di denunciare Equitalia e le banche, adesso ha intrapreso una battaglia di civiltà, spiega, troppi suicidi negli ultimi anni, moltissimi imprenditori che non sono stati capaci di andare avanti, lavoratori licenziati, genitori non più in grado di mantenere i propri figli, di cui la decisione di querelare governo e Parlamento che non avrebbero attuato provvedimenti per impedire che la gente decidesse di farla finita. Anziché creare un sostegno a persone che perdono il posto di lavoro, perché in Italia se ha 35 anni perdi il posto di lavoro diventi nulla. Un governo non deve pensare ai 4 miliardi AMPS, non deve pensare agli F-35, non deve pensare a fondo salva stati, deve dire all'Europa vengono prima i nostri cittadini, vengono prima i miei cittadini, poi viene il resto. Diverse le procure che hanno già aperto dei fascicoli d'inchiesta, gli avvocati del comitato sono pronti ad assistere i soci gratuitamente. Dal 1 gennaio 2014 al 5 febbraio 2014 ha già fatto 79 vittime. Questo non è civiltà.